Ragazzuoli, esattamente un mese fa Mi procuravo questo brutto infortunio che avete visto nelle immagini precedenti Purtroppo, causa anche di questo brutto infortunio Tutte quelle che sono stati gli episodi della serie delle MSP Hanno dovuto subire un rallentamento Perché nei giorni in cui ero in ospedale Non sono riuscito a caricare niente E non sono riuscito a tenere il passo con i video che dovevano essere caricati E quindi abbiamo avuto un brusco rallentamento Che ha fatto sì che gli episodi uscissero con un po' di ritardo Ed è per questo che in questo episodio andrete a vedere La giornata di recupero della partita in cui io mi feci male Perché alla fine la partita non l'hanno giocata Ma per cause sensibili Ovvero siccome sia gli avversari che l'arbitro in primis Avevano subito uno shock Per via del brutto e grave infortunio che avevano rimediato quella partita Hanno deciso, in comune accordo anche con la FGC Di sospendere quella partita Quindi partita che si è sospesa al decimo minuto Al dodicesimo minuto E quindi andrà rigiocata a questo minutaggio qua Questo è appunto l'episodio in cui vedrete la partita Quindi successivamente andrete a vedere che cosa hanno fatto i ragazzi Io ci tengo a dire che attualmente sto meglio Ho recuperato un po' da quello che è stato l'intervento post infortunio Ho dovuto riadattare un attimino la mia vita E capire quello che potevo fare E quello che non posso fare E che non potrò fare per circa due o tre mesi a questa parte Finché non riuscirò a camminare sulle mie gambe La situazione è questa qua Quindi sono ingessato fino a poco sotto il ginocchio Sono riuscito e sto riuscendo lo stesso A lavorare piano piano Quindi a mantenere le due serie importanti Ovvero quella dell'MSP e quella dei bambini Spoiler Dovrà uscire un evento veramente figo Che abbiamo registrato da Games Week Ovvero il pallone d'oro degli scarsoni Quindi non perdetevi questo contenuto in esclusiva Che uscirà sul mio canale Ragazzi perché sarà veramente una bomba Per quanto riguarda la mia situazione Al momento non posso fare altro che aspettare Perché adesso ho passato esattamente un mese Avrò tra qualche giorno una visita di controllo Dove mi toglieranno appunto questo gesso E mi andranno a togliere anche i punti Dovrò subire un'operazione piccola Molto piccola rispetto a quello che ho già subito Perché dovranno andare a rimuovere una vite Che mi hanno messo per far star fermo la caviglia Quindi il dottor Stefanelli dovrà andare a fare questa piccola operazione Detto questo ragazzi Non vi voglio dire altro Vi voglio lasciare quello che è la partita Appunto del recupero Di questa giornata di campionato Siamo in un periodo un po' così così Dove da un po' che non Vengono fuori delle vittorie Dove non si vince Speriamo appunto che i ragazzi possano fare bene E avere continuità di rendimento Ovviamente ci saranno degli intoppi E andremo a capire quali e come risolverli Detto questo ragazzi Vi voglio lasciare alla partita In esclusiva appunto di questo recupero E ci vediamo in un prossimo aggiornamento Forza MSP Let's go! Benvenuti a tutti dunque a questo recupero Della decima giornata Tra Junior Corticella e MSP Partita che si recupera Dopo il gravissimo infortunio subito da Offsum La cui mandiamo un grandissimo abbraccio E un caloroso augurio di pronta guarigione Squadre che riprenderanno dal tredicesimo minuto Partiamo dunque con il possesso di palla Per il Corticella A parte il cross di Broglia Colpo di testa di Scarpuzza Che però finisce sul fondo Il lancio lungo Intercetta Dondi Percussione centrale Dondi, Dondi Fino in fondo Parte il tiro ma è debole e centrale Comoda la parata Recupera il pallone Il Corticella L'apertura verso il terzino destro Parte il cross in direzione di Scarpuzza Buca la difesa Scarpuzza Il tiro Il palo Il pallone Che finisce in braccio a Comastri Che oggi sostituisce Pechini Occasionissima per il Corticella Con Scarpuzza Che trova soltanto la base del palo Ancora il Corticella A parte il cross e la chiusura Molto pericolosa Da parte di Dalmonte Protesta Lo Junior Corticella Per un calcio di rigore Non assediato dall'arbitro Rivediamo il replay L'intervento forse è leggermente in ritardo Ma l'arbitro non vede A parte il cross sul calcio d'angolo Ancora Scarpuzza di testa La parata di Comastri Rimessa laterale Per l'MSP Il pallone per Inek Inek Lancio lungo Fa buona guardia La difesa del Junior Che però si mette da solo in difficoltà Il pallone che finisce Rimessa laterale Con Motu Perpetuo Zannoni Pallone per Inek Inek Parte poi il cross Verso Goyormella La girata di testa è debole E molto alato Siamo al trentunesimo Sull'auto di sinistra Il corticella Con Broglie A parte il cross Verso Arbizzani E la rete La rete Dello Junior corticella Con Arbizzani Che trova Con un sinistro Di controbalzo Delicato Preciso L'angolino Vantaggio per lo Junior corticella Adesso parte il tiro Ancora per lo Junior corticella Pallone sul fondo Deve provare a reagire L'MSP Con rotatori dentro Per Goyormella Il gioco di suola Bellissimo di Goyormella L'assist incredibile Per Dondi Che ci mette troppo A crossare Chiude la difesa Del Junior corticella Occasionissima Anche qui Per il corticella La chiusura Da parte di Moto per Petro Zanoni Poi il tiro da fuori Di Ferriero Il pallone che finisce Ampiamente sul fondo Dondi Dondi per Goyormella Buonissimo l'assist Dentro per consta La chiusura Della difesa Della corticella Ancora corticella però Che mantiene Il possesso del pallone E la E la trazione Perennemente offensiva Parte il cross Arbizzani Il colpo di tacco Dentro per Broglia Il pallone che finisce Sul fondo Buono il tentativo Comunque da parte Del Dello Junior corticella Che chiude Il primo tempo Meritatamente in vantaggio Per 1-0 Ragazzi Della MSP Che devono assolutamente Darsi Una svegliata Primo tempo Veramente poco incisivo Riparte adesso Dunque Il secondo tempo Con un lancio lungo Però Che finisce direttamente Nelle mani del portiere Attenzione L'MSP Con Goyormella Dal limite dell'aria Parte il tiro Buono Ma troppo alto Sopra la traversa Rinvio di Comastri In direzione di Goyormella Ancora una volta Moto perpetuo Zannoni Bellissima la giocata Di consta E qua c'è un fallo Di mano Al limite dell'aria L'arbitro Ravvisa il fallo Punizione Interessantissima Rivediamo Il replay Effettivamente Il tocco Sembra esserci Ma l'MSP È entrato in campo Sicuramente Con un piglio diverso Parte Inek Il pallone sul fondo Sicuramente Si poteva fare Molto meglio Da lì forse Goyormella Sarebbe stato La scelta migliore Ora Lancio lungo Ancora per l'MSP Moto perpetuo Zannoni Buonissima la giocata Verso Comastri Parte il tiro È un altro MSP Sicuramente in questo Secondo tempo Ferriero Parte il cross Fuori per il numero 7 Parte il tiro E la devazione Sfortunata Di Rotatori La rete Con il tiro da fuori Di Sanso Deviato Da Rotatori Peccato 2-0 Junior Corticella È entrato Bartolini nel mentre Per l'MSP Il cross Ancora verso Dondi E verso Goyormella Esce Fa buona guardia La difesa Dello Junior Corticella Poi ancora La battaglia Dentro l'area Ma recupera Il palone Lo Junior Corticella Il tocco di Scarpuzza Verso Broglia Che si invola Davanti al portiere La rete 3-0 Dello Junior Corticella Ottima La transizione Offensiva Con Scarpuzza Dentro per Broglia Che parte In contropiede Telecamere Che adesso Cercano Il nostro Off Samuel Un po' Basito Da questa Prestazione Dei suoi Compagni Pallone che Finisce sotto Le gambe Di Comastery 3-0 Qui abbiamo Un'occasione Con un colpo Di testa Sul fondo Per l'MSP Che però Non sembra Essere In partita Moto perpetuo Zanoni Dentro per Goiormella All'1-2 E la chiusura Del portiere Ma al Novantunesimo È stata L'ultima Occasione Per L'MSP Sfida Che si chiude Sul 3-0 Per lo Junior Corticella Brutta Prestazione Dell'MSP Orfana Di un Off Samuel Infortunato Partita Che si conclude Con questa Amara sconfitta Per l'MSP Ragazzi Purtroppo È andata così L'MSP Non è riuscito A vincere In questa giornata Di recupero E purtroppo Ha perso Che dire Brutta sconfitta Non ci voleva Chissà Se non mi fossi fatto male Come sarebbe andata a finire Però Con i secoli Ma Purtroppo Non si fanno i punti E quindi C'è poco da dire E più che altro C'è poco da Rimurginarci sopra Bisogna Pensare La prossima partita E pensare A Continuare a fare bene E a fare bene Non è semplice Perché adesso L'MSP Si troverà Con me Di meno Oltre anche Al capitano Che ci ha lasciato Nella scorsa partita Che in realtà Era l'ultima Quella in cui Mi sono fatto male Era proprio l'ultima Del capitano E sarebbe stato L'ultima partita Del capitano Così non è stato Perché poi mi sono fatto male E adesso Ci ritroviamo ad avere Dei guai E delle defezioni In squadra Non indifferenti Perché Io comunque Questo sono infortunato Il capitano È dovuto andare via Qualche Altro giocatore Non sta benissimo In questo periodo Quindi è normale Che una squadra Costruita appunto Con Dei elementi Chiavi Fondamentali In momento in cui Vengono a mancare Possa fare difficoltà Però A fronte Le difficoltà Bisogna saper reagire E bisogna Saper Alzare la testa E sono sicuro Che l'MSP Riuscirà Ad alzare la testa O perlomeno Ci proverà Detto questo Vi ringrazio Per aver visto L'ennesimo episodio Come vi ho già detto A inizio video Ragazzi Aggiornare man mano Quelli che saranno Le mie condizioni E soprattutto Il mio recupero Di questo brutto Infortunio Alla caviglia Spero di recuperare Veramente Quanto presto Come ho già detto Nel video In cui ho spiegato Tutto l'accaduto Che se non l'avete ancora visto Andate a recuperare Sarà lunga Un lungo rientro Adesso non so Se la mia stagione è finita Oppure no Però cercherò Il più possibile Di ritornare Presti in campo Vi ringrazio Per aver visto Questo episodio Dell'MSP E mi raccomando Continuate a supportarci Perché sarà fondamentale Anche per me Per la mia serie Per il mio canale Grazie mille a tutti Per la visione E ci vediamo In un prossimo episodio Dell'MSP Forse sempre All'MSP Let's go O O O covid O O O O O Grazie a tutti.